Una precisazione perché potrei essermi indiciato prima, quando ho una divisione, una struttura di questo tipo, P è il dividendo, S è il divisore, Q è il cosiddetto e R è il resto, ovviamente quando andiamo a dividere per S, qui rimane Q, mi sembrava di aver fatto bene però mi è stato segnalato che avevo scritto S, divido per S, qua viene P su S, qua viene QS su S che fa Q e qua viene R su S, chiaro? Quindi il dividendo fratto il divisore è uguale al quoziente più il resto che si deve ancora dividere per il divisore, questo vale anche per i numeri, no? Se voi avete 24 settimi, questo non è altro che 3 più 3 settimi, 7 per 3 è 21, il resto fa 3, per esempio, se io ho 24 settimi, gli inglesi scrivono 3, 3 settimi, più non ce lo metto, scrivono così, qua è come se ci fosse un piccolo più, così scrivo, se io scrivo 2 e un quarto vicino, significa 2 più un quarto che significa 9 quadro, chiaro? 6 quadro, precisato questo, è Rata Corvigge, andiamo a fare il sottocaso 3, allora qual è il terzo caso, noi abbiamo fatto i casi in cui le radici di S sono reali e distinte, oppure sono reali e coincidenti, e che caso c'è rimasto è il caso in cui le radici siano complesse, quindi stavolta S lo scrivo così, lo scrivo come x quadro più 2 alfa x più beta, qual è la condizione affinché le radici siano complesse e che il discriminante sia negativo, cioè alfa quadro meno beta deve essere negativo, beta deve essere maggiore di alfa quadro. di alfa quadro meno beta, allora andiamo a fare quindi l'integrale tra, l'integrale senza estremi, di ax più b fratto x quadro più 2 alfa x più beta, in dx. questo come lo posso scrivere? Lo posso scrivere come l'integrale di ax più beta fratto x più alfa al quadrato più beta meno alfa quadro, in dx. Se ci fate caso, quando vado a fare questo quadrato mi viene x quadro e ci sta, 2 alfa x e ci sta, poi mi viene più alfa quadro che cancella meno alfa quadro, mi rimane beta e ci sta. Per comodità questo nuovo numero chiamiamolo gamma quadro gamma quadro, quindi posso riscrivere tutto così, integrale di ax più b fratto x più alfa a quadrato più gamma quadro, in dx. È un numero positivo quindi è il quadrato di qualche cosa, quindi va bene. ok? 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 Ora però poniamo y uguale a x più alfa fratto gamma, cioè in buona sostanza vogliamo che x più alfa o faccia gamma y. Allora questo qua, questo integrale chi diventa? Diventa l'integrale con questa sostituzione, cioè con y uguale a x più alfa fratto gamma, in che cosa? Chi ha x? x è uguale a gamma y meno alfa, quindi qua mi viene a che moltiplica gamma y meno alfa, più b fratto gamma quadro y più gamma quadro. In dy, ma dy chi è? È dx chi è? Scusate, dx è gamma dy. Come se preferite dy di dx è uguale a 1sul gamma. Ok? Continuo qua uguale questa sostituzione, la scrivo qua, poi me la ricorderò dopo, ma adesso non la volta apprezzo quindi questo è uguale a gamma per l'integrale di A per gamma per y meno A alfa più B fratto gamma quadro più y quadro per gamma quadro per y quadro in d y e tutto questo è uguale a l'integrale questo per questo diviso questo fa A y fratto y quadro più 1 in d y e poi mi rimane la costante meno più gamma che moltiplica B meno A alfa per l'integrale di poi qua c'è il gamma quadro sotto 1 fratto y quadro più 1 in d y allora questi due integrali sono due integrali immediati scusate io cambio un po' posizione ogni volta perché la lavagna è grande ma non abbastanza allora questo chi è? se ci fate caso questo è A mezzi B per il logaritmo di y quadro più 1 perché la derivata del logaritmo di y quadro più 1 quanto fa? 1 fratto y quadro più 1 per 2y 2 e 2 si semplifica rimane la y e l'alfa poi qua che cosa mi rimane? mi rimane B meno A alfa fratto gamma per l'arco d'angente di y e poi ci dobbiamo mettere la costante quindi lo riscrivo qua sopra A mezzi per il logaritmo di 1 più x più alfa fratto gamma al quadrato perché y è 1 più x più alfa fratto gamma più b meno A alfa fratto gamma per l'arco d'angente di x più alfa fratto gamma più costante dove c è la solida costante applicata nell'ultimo passaggio cosa ho fatto? ho risostituito a y la sua espressione in funzione di x ci siamo? ok uno dice ma qua se hai fatto errori io non lo so non mi interessa in realtà quello che conta è il procedimento perché ogni volta che lo dovremo rifare lo dovremo rifare con lo stesso tipo di ragionamento non è che ci stiamo a ricordare sta formula o a applicare sta formula non ci pensate proprio perché cercate di farlo con una formula significa innanzitutto andare a scrivere chi è alfa chi è beta chi è A chi è B e già questo richiede tempo poi richiede l'applicazione della formula se la devi ricordare ed è più facile sbagliare in questo senso invece qua noi cosa abbiamo fatto come ragionamento? abbiamo completato il quadrato e quello che avanza è un numero positivo quindi lo scriviamo come gamma 4 ah dobbiamo anche scrivere in realtà chi era gamma gamma è la radice di beta meno alfa quadro però non lo sostituiamo perché non ci conviene sennò la formula diventa ancora più complicata allora che cosa abbiamo fatto? abbiamo fatto una non è solo una traslazione abbiamo fatto una traslazione e poi abbiamo fatto una divisione per gamma qui per quale motivo? perché così sotto il denominatore diventa del tipo y quadro più 1 per una costante e sopra mi viene quello che mi viene però qualunque cosa sia sarà qualcosa per y fratto y quadro più 1 più qualche altra cosa un'altra costante per 1 fratto y quadro più 1 ora la primitiva di y fratto y quadro più 1 è un mezzo logaritmo di y quadro più 1 è un integrale immediato e una primitiva di 1 fratto y quadro più 1 è una calcola l'angente di y quindi andando a calcolare questi due integrali sostituiamo adesso facciamo un esempio tra l'altro lasciamo nell'esempio lasciamo indicato il lasciamo indicato l'espressione iniziale e l'espressione finale per vedere se la formula che abbiamo scritto l'esempio lo usiamo insomma per controllare se abbiamo fatto bene con l'elettro ripeto il procedimento è giusto ma è sempre possibile qualche poveretto ok allora qui cancelliamo e andiamo a fare l'integrale di 4x quadro più 5 la scuola è 4x più 5 fratto x quadro più 6x più 3x in x ci ho pensato un attimo giusto per cercare di fare in modo che gamma non venga con la radice ma tanto seppure veniva con la radice non è un problema allora come la posso scrivere questa integrale questa integrale la posso scrivere come integrale di 4x più 5 fratto x più 3 al quadrato più 2 al quadrato vedete x quadro più 6x 3 al quadrato fa 9 9 più 4 fa 3 e ci si fa quindi adesso qual è la posizione da fare? la posizione da fare è y uguale x più 3 diviso 2 quindi cosa viene qua? quindi x uguale 2y meno 3 quindi qua viene 4 che moltiplica 2x meno 3 e 2y meno 3 più 5 sottoviene 4 che moltiplica y quadro più 1 in dy quindi mi diventa integrale 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 a cui abbiamo 8y fratto 4 fa 2y fratto y quadro più 1 in dy più anzi meno qua viene meno 12 più 4 più 5 fa meno 7 quindi viene meno 7 quarti e l'integrale di 1 fratto y quadro più 1 in dy uguale a 2y fratto y quadro più 1 la primitiva è logaritmo di y quadro più 1 quindi viene logaritmo di x più 3 mezzo al quadrato più 1 più anzi meno 7 quarti per l'arco d'angente x più 3 mezzi x più 3 mezzi più la costante allora io un po' ma qua mi doveva venire ah no no c'è una cosa che ho sbagliato infatti cosa ho sbagliato di y di y di y x e e 2 di y quindi tutto quanto moltiplicato 1 per 2 quindi qua mi viene 2 qua mi viene meno 7 meno perché quando ho fatto la sostituzione x è la 2y meno 3 questa è la più 5 questo ho fatto la sostituzione ma poi mi devo ricordare che dx è uguale a 2y quindi questo 2 era 4 quindi qua è 2 adesso è corretto allora vediamolo un po' a mezzi come mi sono accorto andate ad applicare la formula stavolta ce l'avevo scritta a mezzi a faceva 4 a mezzi fa 2 per logaritmo di 1 più x alfa faceva 3 più 3 fratto 2 gamma faceva 2 a quadrato più qua devo fare 5 alfa faceva 3 a faceva 4 5 meno 12 fa meno 7 mezzi perché gamma vale 2 meno 7 mezzi e l'arco tangente di x più 3 mezzi io l'arco standardizzato quindi come avete visto è corretto se volete un ulteriore allora io è corretto mi sono basato sul fatto che era difficile che avessi fatto due errori uno qua e uno anche là però se volete un ulteriore conferma fate che la derivata fate tutta la somma di tutti i mezzi che vengono e vedete che la fine otterrete questo risultato ci siamo? non è difficile quindi attenzione mentre nei casi precedenti la primitiva la potevo andare ad applicare su tutti gli intervalli che non contenevano i zeri del denominatore siccome qua i zeri del denominatore non ce ne stanno questa primitiva la posso andare ad applicare su tutti gli intervalli anzi se a è uguale a 0 la posso applicare anche sulle semirette o sulla retta cioè quando mando x è infinito questo pezzo diverte allora ricordatevi che il denominatore è sempre positivo quindi per esempio se andate a integrare questa funzione su una semiretta che succede e su quella semiretta a parte un intervallo il segno di questa funzione sarà costante sarà pari al segno del denominatore dipende da quella semiretta il numeratore se si mantiene positivo oppure negativo però cosa succede? se a non è 0 l'integrale diverge perché? per quale motivo? perché questa funzione va a più o meno infinito dipende dal segno di a e dipende se stiamo andando a più infinito a meno infinito a meno infinito perché si stiamo andando a meno non perché il limite è sempre lo stesso però se l'integrale è tra meno infinito e una costante questo lo devo valutare nell'estremo basso quindi c'è il segno meno davanti se invece lo stiamo andando a più infinito questo lo devo valutare nel termo alto e quindi c'è il segno più davanti comunque se a non è 0 l'integrale diverge o positivamente o negativamente se invece a è 0 questo pezzo non c'è e vedete che questa funzione quando x tende a più infinito o quando x tende a meno infinito tende a pi greco mezzi o a meno pi greco mezzi chiaro? quindi in questo sotto caso qui le funzioni per esempio se io vado a fare facciamo un esempio che diciamo è più facile supponiamo di fare l'integrale di 3 fratto x quadro più 4x più 5 integral questo è uguale tra meno infinito e più infinito integral in bro qui c'è bisogno in realtà questa funzione qui non è integrabile secondo Riemann perché non è nulla fuori di un intervallo e non sia nulla sia verso meno infinito sia verso più infinito c'è bisogno di spezzare l'integrale in due io vi ho detto in generale di sì in questo caso no perché no? perché la funzione è disegno costante quindi possiamo fare tutti i limiti insieme che vogliamo se invece fosse stato disegno variabile era diverso comunque questo qua che cos'è? è l'integrale da meno infinito a più infinito di 3 fratto x più 2 al quadrato più 1 in dx allora cosa faccio adesso? faccio la sostituzione y uguale x più 2 quindi questo è uguale integrale in dy perché è una traslazione quindi dy uguale a dx quando x tende a meno infinito y tende a più infinito quando x tende a più infinito y tende a più infinito quindi gli estremi di integrazione rimangono gli stessi di 3 fratto y al quadrato più cioè apposto y uguale x più 2 quando x tendeva a meno infinito y uguale x più 2 tende a meno infinito x tendeva a più infinito y uguale x più 2 tende a più infinito quindi gli estremi integrazione non cambiano quindi questo qua chi è? è tre volte l'arco tangente di y diciamo valutata più infinito meno infinito, cioè nel senso del limite ma il limite dell'arco tangente quando la y va più infinito è pi greco mezzi a meno infinito è meno pi greco mezzi, quindi qua viene tre pi greco mezzi meno meno pi greco mezzi fra le più quindi questo integrale è molto semplice da fare è chiaro? adesso lo facciamo diventare più chiaro commetto che non è chiaro questo passaggio qua, da qua allora, la funzione a meno due vale tre questa funzione fa così, questa qua c'è la y e qua usiamo l'altra variabile chiamiamo t perché la x poi la devo fare la traslazione del chiamare x adesso cosa ho detto? allora vedete, quest'integrale qua chi è? è l'area del grafico, cioè del pezzo di piano che è stato il grafico della funzione della stella scena se io faccio la traslazione y uguale x più 2, la nuova variabile mi viene spostata centrata qua l'area è cambiata, cioè sempre da meno infinito a infinito la devo calcolare perciò non sono cambiate gli esperimenti di reazione cioè sto dicendo semplicemente che se tu trasli una figura che è illimitata che si è estende da meno infinito a più infinito l'area non cambia e gli estremi di reazione rimangono gli stessi e quando valeva quest'area, se vanno a fare il conto si vede che valeva 3 pi greco sia prima che prima perché? perché al cotangente di y per y che tende a più infinito tende a pi greco mezzi a meno infinito tende a meno pi greco mezzi quindi io devo fare 3 che moltiplica pi greco mezzi meno meno pi greco mezzi è chiaro adesso? ok va bene? allora adesso andiamo a fare quelle di grado e se no quando affittiamo? di grado qualunque la bellezza del metodo di Hermit sta proprio che hai fatto quelle di grado 1 hai fatto quelle di grado 2 adesso sei in grado di affrontare quelle di grado qualunque allora prima di andare a fare quelle di grado qualunque vediamo un attimo che lo so se ci sta dentro il bello è che qua c'è un grado c'è un caso su grazie 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 Allora, cosa dice questo teorema? Supponiamo di avere una funzione razionale del tipo P di x su S di x quindi grado di P minore del grado di S poi S è monico quindi come si scrive S? S si scriverà come x meno x con 1 per x meno x con 2 per x meno x con A queste sono le radici reali poi abbiamo ogni radice reale però la devo elevare a quella che si chiama la sua molteplicità cioè potarsi per esempio che la radice x con 1 compaglia 3 volte allora ci sarà x meno x con 1 alla 3 quindi questi qua sono numeri tanti positivi poi abbiamo x meno come lo vogliamo chiamare le radici complesse le vogliamo chiamare x meno z1 alla beta 1 per x meno z1 coniugato alla beta 1 per x meno z k alla beta k per x meno z coniugato k alla beta k cioè una volta considerate le radici reali il polinomio può mettere anche le radici complesse se vi ricordate abbiamo detto che il problema fondamentale dell'algebra un polinomio di grado n quanta è radice a? esattamente n se sono contate con la propria molteplicità però c'è un'altra osservazione che abbiamo fatto a sto tempo s di x un polinomio ha coefficienti reali p ed s hanno coefficienti reali cioè non numeri complessi quindi che vuol dire? che se un polinomio ha coefficienti reali a mettere una certa radice complessa deve ammettere anche la complessa coniugata per esempio nel caso nel terzo sotto caso se vi ricordate se andate a fare le radici le radici di un polinomio di grado 2 quando non sono reali sono due radici complesse coniugate non mi era servito di calcolare ma allora non solo ma se ammette la complessa coniugata se la radice complessa la ammette con molteplicità beta 1 anche la complessa coniugata la deve ammettere con la stessa molteplicità cioè se la radice complessa per esempio qua zeta 1 ce l'ha 5 volte anche la coniugata ce la deve avere 5 volte perché ogni volta tiro fuori la complessa e la complessa coniugata allora quindi questa è la premessa questa è un'ipotesi nel senso che qual è l'ipotesi? che s di x l'ho già scritto così cioè una scrittura del zene ce l'ha il problema è che per trovare questa scrittura mi devo trovare x con 1 x con 2 x con h a fa 1 a fa 2 a fa h z1 z2 zk beta 1 beta 2 beta k e questo non è facile in genere diciamo che nella pratica è molto più facile di quello che sembra perché secondo voi nel compito un polinomio il denominatore di che grado lo posso dare 3 4 5 ma non di più una volta ho andato di grado 7 una volta solo mi è andato però nel momento in cui è di grado per esempio supponiamo che sia di grado 4 che cosa può avere? mettiamo che non abbia radici reali può avere una complessa e una complessa conigata sono già 2 se la moltificità è 2 sono già 4 abbiamo finito altrimenti può avere z1 z1 conigata poi z2 z2 conigata sono 4 quindi può avere una radice complessa e la sua conigata di moltificità 2 oppure due radici complesse poi due conigate sempre 4 oppure può avere una complessa la coniugata e due reali per esempio può avere una reale di molteplicità 2 e due coniugate di molteplicità 1 potrebbe avere per esempio più 1 più 3 più i e meno i come la dice quindi quando vediamo se avete capito qualche cosa che relazione c'è il grado di s lo chiamiamo n che relazione c'è tra n h e k scusate tra n alfa 1 alfa 2 alfa h beta 1 beta 2 beta k n uguale ad alfa 1 più alfa 2 più alfa h più due volte beta 1 più beta 2 più beta k questa è la relazione che c'è per forza perché da qua quante radici escono alfa 1 da qua quante radici escono alfa 2 da qua quante radici escono alfa h da qua ne escono beta 1 ma da qua ne escono altre beta 1 quindi sono due volte beta 1 due volte beta 2 due volte beta 3 due volte beta k e quelle sono tutte le radici le radici in totale devono essere n fine del discorso è chiaro che se n è basso per esempio se n è 3 qual è la possibilità? o qua ci sta alfa 1 alfa 2 alfa 3 oppure ci sta alfa 1 uguale a 1 sulla 3 o ci sta 3 radici che potete avere le moltiplicità distribuite come pare potete avere che ne so 3 1 di moltiplicità 2 di moltiplicità 2 e 1 oppure 3 di moltiplicità 1 1 e 1 oppure ci sta una radice reale una radice complessa e la complessa coneggata di solito cioè quindi quando n è piccolo le possibilità si esauriscono subito basta riflettere un attimo è chiaro? ora il lemma di Hermit interessantemente non ha nulla a che fare con apparentemente con l'integrazione mi dice semplicemente che esiste un'unica combinazione di A1 A B1 BK come lo chiamiamo C1 tanto sul maiuscolo quindi non si comportano CK e un unico T di X di grado Deg di T minore o uguale di N di N meno H meno 2K meno 1 tali che P di X su S di X sia uguale alla somma alla somma per J per J per J chiamiamolo I per I che va da 1 no chiamiamolo J che va da 1 ad A di A di A con J fra X meno X con J più la somma per J che va da 1 H di B con J e X più C con J fratto X meno Z per X meno Z con J coniugato più più la derivata rispetto a X di T di X fratto S T di X chi è S di X lo scrivo qua lo scrivo qua sotto S di X è uguale a X meno X con 1 all'alpha 1 meno 1 per X meno X con 2 all'alpha 2 meno 1 per X meno X con H all'alpha H meno 1 per X meno Z1 alla beta 1 meno 1 per X meno Z1 coniugato all'a beta 1 meno 1 per X meno ZK alla beta K meno 1 per X meno ZK coniugato alla metaka cioè è lo stesso polinomio di prima è lo stesso polinomio di prima dove tutte le radici, tutte le molteplicità sono scese di 1 allora questo polinomio che grado ha? il grado di s dilde quant'è? quant'è? n-h-2k perché ogni volta che tolgo una moltiplicità agli alfa, gli alfa sono h e ne devo togliere h per ogni beta lo devo togliere due uno per la cosa e la cosa e la cosa e allora questo qua è un polinomio di grado 1 in meno rispetto a questo e questo lo posso scrivere così allora il mit me dice dice guarda tu c'hai questa frazione che devi fare questa te la puoi scrivere come? fratti semplici con denominatore di grado 1 semplici perché la moltiplicità qua è 1 più fratti semplici con le radici coniugate con denominatore di grado 2 perché vedete qua c'è un polinomio di grado 1 qua c'è un polinomio di grado 1 poi quello che rimane te lo puoi scrivere come la derivata di un'altra funzione razionale dove questo c'è un grado n meno h meno 2k e questo c'è un grado 1 inferiore rispetto al 6 chiaro? o lasciamo stare perché funziona cioè il mit l'ha dimostrato lo dobbiamo dimostrare noi questo qua? no, no, però funziona quello che voglio sapere questo lo lascio ben questo non lo cancelliamo più perché poi facciamo gli esercizi e non lo cancelliamo andiamo invece a dire come si fa allora sotto questa ipotesi cioè sotto questa ipotesi l'ipotesi era semplicemente che s fosse monico che conoscevamo la fattorizzazione di s eccetera sotto questo insomma con questa scrittura se io adesso voglio andare a fare l'integrale di p di x fratto s di x in dx che devo fare? devo fare la somma che va da 1 ad a di a con j per l'integrale di 1 fratto x meno x con j in dx x meno x con j più più la somma per j che va da 1 a k dell'integrale di p con j x più c con j fratto x meno z j per x meno z j coniugato quindi in dx più l'integrale di una derivata chi è? è t di x fratto s tilde di x più costante più costante e ho finito allora questi sono integrali immediati sono logaritmo di x meno x con j in modo di x meno x con j questi sono integrali del sottocaso 3 del sottocaso 3 questi sono integrali del sottocaso 3 del sottocaso 3 perché perché quando andiamo a moltiplicare x meno z j per x meno z j per x meno z j coniugato questo quanto fa? fa x quadro meno z j più z j coniugato fa due volte la parte reale di z j per x e poi viene più modulo di z j quadro come vedete questo coefficiente questo coefficiente sono reali e siccome le radici sono complesse coniugate vuol dire che quel polinomio ha discriminante negativo quindi questi qua sono degli integrali del tipo del sottocaso 3 che abbiamo appena fatto non mi interessa quando fa non ti sviluppi li fa non mi interessa spiegare quindi queste li sappiamo fare queste li sappiamo fare questa è l'integrale di una derivata che è la funzione stessa almeno di una costante abita finito l'integrale quindi il 90% della fatica per quanto riguarda fare l'integrale di una funzione razionale con il denominatore di grado un po' più alto non sta non sta nel fare effettivamente l'integrale ma sta nello scrivere questa e ovviamente per scrivere questa esiste unico lo dobbiamo trovare e come si trova? qua ci metti dei coi allora come si fa a trovare? s ce l'hai perchè supponiamo di aver fatto la parametrizzazione s d'inte pure ce l'hai perchè basta diminuire le molteplicità di un quindi questo si sa questo si sa poi questo allora facciamo conto per esempio che h è uguale a 7 e beta è uguale a 5 scusate la somma degli a con h fa 7 e la somma di bella k faccia 5 n quanto fa? 17 7 più 10 che n è uguale a h più 2a ok quindi questo qua allora supponiamo che facciamo un esempio supponiamo che h era 3 alfa 1 più alfa h era 5 K era 2 beta 1 più beta K era questo non era 3 ma era 6 questo qua faceva 5 questo era 4 mettiamo e questo era 3 allora con questi valori qua quante frazioni abbiamo? quanti fratti semplici abbiamo? G va da 1 a H H vale 4 quindi quanti sono questi fratti semplici? 4 quante costanti ci mancano del piatto determinale? 4 qua K vale? 3 per ogni fratto quante costanti dobbiamo determinare? 2 quindi quante costanti dobbiamo determinare? 6 S di che grado ha? S aveva grado 7 più 10 17 e se dite che grado ha? non c'ha 16 c'ha 17 meno 3 anzi meno 4 meno 6 perché H era 4 e K era 3 quindi c'è 7 meno 10 questo c'ha grado 6 e questo c'ha grado 6 ma un po' di grado 6 quante costanti porta? 7 perché stavolta non è monico quello sopra quindi porta 7 costanti arbitrali un po' di grado 1 porta 2 costanti un po' di grado 2 porta 3 costanti un po' di grado 6 porta 7 costanti quindi qua dobbiamo determinare 7 costanti qua 6 costanti qua e 4 costanti qua in totale sono 17 ma quando andiamo a scrivere tutto questo ambaradamo e andiamo a fare la somma otteniamo al denominatore un po' di grado 17 A che sarà S e al numeratore un po' di grado 16 che dovrà essere uguale a P un po' di grado 16 porterà 17 costanti arbitrarie avremo un sistema lineare di 17 equazioni in 17 incogniti quello che ha dimostrato il MIT che quando vai a fare questo il sistema viene sempre risolubile con un'unica soluzione quindi tu ti trovi tutte queste costanti tutte queste costanti tutte queste costanti pure tutte le costanti quindi T te lo scrivi così e hai finito allora sembra difficile in realtà lo hai molto meno del metodo che vi insegnano le superiori perché il metodo che vi insegna le superiori vi insegna a fare determinati integrali per induzione perché vuole evitare questo pezzo qua allora il MIT che cosa fa? è più fulpo dice tu devi fare un sistema lineare quando te lo sei impostato così l'uguaglianza ti fai la derivata perché fare una derivata è più facile di fare un integrale e poi ti vai a scrivere il sistema lineare che ti verrà fuori dal principio di rientrita dei polinomi sarà un sistema malorto ma comunque ci avrà sempre un'unica N nubla di soluzioni una volta che te lo sei ricavato diciamo sei ricavata la N nubla di soluzioni quando vai a fare l'integrale l'integrale della derivata sta già scritto poi devi fare soltanto integrali con determinatori di grado 1 e determinatori di grado 1 finito chiaro? quindi se applichiamo questo metodo e impariamo ad applicarlo poi adesso dopo la pausa faremo un paio di esempi ovviamente non prenderemo S di grado 17 prenderemo S di grado 13 di grado 4 e quindi andremo a fare questo sistema una volta fatto il sistema avremo che il nostro integrale sarà ricondotto a integrale di funzione relazionale con determinatori di grado U e D che sappiamo già fare? punto S di grado